Ciao di nuovo a tutti. Sono tornato per un altro video. E in questo video ti mostrerò come creare un account Spotify. Siete pronti? Quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo. Per cominciare, apri la tua applicazione Spotify. Ora toccan iscriviti gratuitamente. Successivamente, digita il tuo indirizzo e-mail. Se hai finito, toccan avanti. Creare e digitare la password. Successivamente, fai clic su un avanti. Quindi, in basso, scorri per vedere la tua data di nascita. Quando hai finito, toccan avanti. Ora seleziona un genere, quindi toccan avanti. Come puoi vedere in alto, c'è il tuo nome. Ma puoi ancora cambiarlo se vuoi. Al di sotto, puoi contrassegnare il primo cerchio per accettare i termini di utilizzo. E se accetti la seconda e la terza affermazione, puoi segnare il cerchio. Quindi toccan crea account. Quindi qui puoi selezionare tre o più artisti che ti sono piaciuti. Una volta fatto, toccan scegli podcast. Ora scegli tre o più podcast che ti piacciono. Se hai finito, tocca semplicemente il fatto. Puoi semplicemente toccare e non ora per ora. E questo è tutto. Hai creato un account Spotify. Grazie per aver guardato.